Il primo provvedimento di cui Rossano ha bisogno riguarda sicuramente la sicurezza. Riuscire ad implementare il personale dell'ufficio polizia locale è sicuramente la priorità. Quindi intanto sfruttare la convenzione che c'è con il consorzio di polizia nord-est da Vicentino e riuscire ad assumere un vigile in modo che il territorio possa essere controllato in maniera ordinata e in maniera così precisa. Rossano non può perdere questa occasione. È il momento di cambiare. Abbiamo gli esempi di comuni limitrofi che un'amministrazione leghista è un'amministrazione concreta, efficace. Le prime cose che farei quando diventerò sindaco sono tre e sono legate al mio slogan di presentazione. Sostegno, legalità e sicurezza. Mettere in moto la macchina dei sostegni alle persone che hanno bisogno, alle imprese, ai giovani che cercano lavoro e agli anziani. La seconda cosa che farei nei primi miei 100 giorni, chiamiamoli pure così, riprendere le varianti urbanistiche che sono bloccate, portarle a termine immediatamente ma soprattutto nella legalità. La terza cosa che andrei a fare è ripristinare la sicurezza che in questi cinque anni è stata molto trascurata. Una bellissima lista, una lista fatta di ragazzi giovani, di persone più anziane, i giovani che vogliono imparare, gli anziani che vogliono insegnare. Terminiamo il progetto lavoro, un progetto che è iniziato già da tempo. Raccogliamo il curriculum vitae di moltissime persone che cercano lavoro, giovani, ragazzi, persone già di una certa età. E' la sfida più importante. Dobbiamo incrociarli con le richieste delle nostre fabbriche. Ecco, la seconda parte che sarà curata insieme ad un'agenzia interinale è proprio quella della ricognizione delle domande che aspettano risposta a parte delle nostre aziende. L'ufficio sarà situato al primo piano del nostro comune e io conto in questi primi 100 giorni, nei primi tre mesi, di poter ultimare quello che abbiamo già iniziato comunque. Grazie a tutti.